Eccoci, bentornati su Go Games e siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a fare un altro sacrario. Ci troviamo esattamente qui, sacrario di Ki-Tawak. Vi zoom un po' per farvi vedere bene il punto in cui è situato. Ed entriamo. Questo ce lo stacchiamo. Lo attacchiamo lì. E qua? No, non hai capito, dobbiamo salire in qualche modo. Ecco. Perfetto. Prendiamo la cassa. Poi ci riprendiamo questa tavola qui. Incastrati malissimo. Ok. Prendiamo questa. No, proprio così. Aspettate, abbiamo dei problemi logistici qui. Caridagliela. Paggate. Così, come prima, non la incollate. Diventa fastidiosa. Ecco qui. Dopodiché. Colpetto di freccia. E via. Ed eccoci qui. E abbiamo concluso anche questo sacrario. Per cui, come al solito, grazie mille e alla prossima. Ciao. 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 Ciao.